Eccoci di nuovo su Overwatch Dobbiamo difendere Fianzate da divertere tempo e state pronti Attaccanti in arrivo tra 30 secondi Basta aspettare Eh All'opera Ciao ciao Ehi la Guarda 5 4 3 2 1 Attaccanti in arrivo Fermate i cari Non vi abbiano inizio Una in arrivo Alza il polvere Questa pratica Questa pratica Gli eroi non muoiono mai Corretta nemica avvistata Nessuno sfugge al mio sguardo Corretta nemica avvistata Corretta nemica avvistata Le ornas ultime Moff 下 Printa Cosa Corretta nel Cosa 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 Questa Cosa Imoh Gli eroi non muoiono mai. Nessuno sfogge al mio sguardo. Se la vi. Ecco il mio revicto! Spara con la mia torrenta! Mezzogiorno di fuoco. Mancano sessanta secondi. Gli eroi non muoiono mai. Ehi, ehi, attenzione, stanno toccando! Uno dopo l'altro. Nessuno sfogge al mio sguardo. Mancano trenta secondi. Signore e signori, accettate! Mancano dieci secondi. Come ha fatto essa? Ah, si potrei portare. Che cazzo ha saputo? Beh, abbiamo vinto. Azione migliore della partita. Nu. Si potrei portare via 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 mira. Isai contenetile io, dov'яvo una parte? sono dimenticato di votare livello 14 ci vediamo nel prossimo video ciao ciao